Il Consiglio regionale ha ricevuto in dono il quadro, acridico su carta e intelata, il sonno della ragione dall'artista Luisa Sartoris. A ricevere l'opera i componenti dell'ufficio di presidenza, con il presidente Mauro Laus. Il dipinto era stato esposto nella mostra collettiva alle radici della democrazia Testimonianze d'Arte 2, promossa dal Comitato Resistente Costituzione nel 2010. Siamo grati alla professoressa Luisa Sartoris per aver voluto omaggiare il dipinto Sonno della Ragione. A nome dell'ufficio di presidenza e dell'intero Consiglio regionale ringrazio la professoressa. Questa è un'ulteriore testimonianza del rapporto aperto tra l'istituzione regionale e la collettività piemontese, i cittadini piemontesi. All'inizio di questa legislatura abbiamo voluto aprire le finestre e le porte del palazzo per interagire con i cittadini piemontesi. Per quale motivo ha regalato quest'opera al Consiglio regionale e cosa vuole rappresentare? Ho voluto rappresentare la sofferenza, l'atrocità della guerra, insomma tutto quello che sta intorno a questo periodo storico. E poi naturalmente l'ho tenuto nel mio studio per parecchio tempo e ogni volta che lo guardavo dicevo ma veramente la sua collocazione non è qui, è proprio in un posto per cui è stato realizzato e così pian piano mi è venuta quest'idea di donarlo alla regione e questa è la giusta collocazione.